Ieri non ci siamo visti, esatto, ieri mi sono fermato ma ormai si sta diventando un classico, la domenica solitamente ci sono sempre pochissime informazioni di calcio mercato, almeno inedite, e quindi preferisco semplicemente non parlarne. Poi però, mentre la domenica inizia a trasformarsi in un lunedì, ecco che inizia a venire fuori qualcosina, qualcosina anche di croccante, qualcosina anche di interessante e possiamo iniziare ad unire tutti i puntini. Non ci eravamo più sentiti dopo l'amichevole di Norimberga, abbiamo già archiviata, messa da parte due paroline su questa roba, in un primo momento un po' più a caldo ho sentito anche tante critiche, persone che pretendevano, esigevano un risultato differente o robe del genere, per fortuna più a freddo ho sentito persone molto più aperte al dialogo, al ragionamento, al sostegno della squadra, da partire da Giuntoli che la deve costruire, a Tiago Motta che la deve allenare, ai ragazzi che vanno in campo. Quindi questa cosa mi fa super super piacere, è un ottimo segnale anche di ritrovata compattezza per quanto mi riguarda all'interno della tifoseria. Poi è ovvio che non stiamo parlando del 100%, ma il 100% non ci sarà mai perché ogni persona è libera di pensarla diversamente, ogni persona è diversa nel modo di ragionare e di esprimere le proprie opinioni, le proprie considerazioni, ma stiamo comunque parlando di una minoranza di quelli che ancora sono lì, che la menano con l'amichevole, guardano al passato, cercano di aggrapparsi a determinati eventi che non sono andati giù, eccetera eccetera. Per fortuna è una minoranza, tutti gli altri sono orientati e proiettati a questa stagione, al futuro a Tiago Motta e a sostenere i colori della Juventus come dovrebbe essere sempre e comunque. Questa è la cosa più importante, ancora più di vincere per quanto riguarda il nostro slogan. E allora testa al 3 di agosto, alla prossima amichevole, alla prossima volta che scenderemo in campo per cercare finalmente di iniziare a vedere qualcosina di più interessante rispetto a delle gambe abbastanza bloccate. Nel frattempo però la Juventus è tornata in Italia, è tornata a Torino, ha avuto un paio di giorni di relax, di riposo per recuperare energie dopo veramente un lavoro fisico di altissimo livello, di altissima fatica, svolto in Germania, si è parlato, io ho parlato anche con Lello con Colpo Gobbo che era lì e mi ha detto veramente che sono stati massacrati in questi giorni e quindi è un'ottima notizia anche il fatto che se si è visto un netto divario dal punto di vista fisico con il Norimberga significa che i carichi di lavoro non sono ancora stati assimilati, significa che gli altri erano ovviamente più avanti alla preparazione, significa che può significare che si è lavorato bene perché non significa al 100% però è probabile che sia così e cioè le gambe iniziano a macinare, l'energia la tiriamo fuori quando è ora, la preparazione è pensata, studiata per permettere alla squadra di arrivare sul lungo e non essere pronti al 26 di luglio, quindi questa è la cosa che mi rende un po' più tranquillo, un po' più felice, oggi si ricomincia, ci sarà anche l'incontro con alcuni giocatori che non si erano ancora visti alla continassa con Tiago Motta, per esempio Federico Chiesa che è arrivato nelle settimane precedenti, mentre la Juventus era in Germania, ecco che Chiesa o lo stesso McKennie inizieranno oggi a lavorare agli ordini di Tiago Motta e poi vedremo cosa succederà a loro lato mercato, lato mercato dove si sono sbloccate alcune situazioni, una in particolare, abbiamo Uisen che ha annunciato sui social una prima battuta per poi passare alla Premier League, quindi Uisen è una delle cessioni e sappiamo bene come la Juventus sta ragionando lato cessioni per sbloccare poi gli acquisti ma non solo, c'è soprattutto quella di Sule, Sule era in tuta durante l'amichevole di Nuremberg, era lì fisicamente, era in Germania, se l'è guardata, se l'è vissuta da giocatore fuori dal campo, lo stesso Tiago Motta al termine dell'amichevole ci ha raccontato di aver discusso, parlato con il giocatore che gli ha chiesto di rimanere fuori, Tiago Motta stesso l'ha etichettato come una decisione giusta, corretta, saggia e quindi ha preferito preservare il ragazzo che era a disposizione ma non era a disposizione e poi ieri sera abbiamo visto partire dall'aeroporto di Casella di Torino in direzione Roma, arrivato, bagno di folla, Roma super carica e innamorata di Mati Sule, tutto bello, tutto meraviglioso, ora alla Juventus tocca incassare qualche soldino ed ecco che significa allora che la Juventus è pronta. Ragazzi con Uisen e Sule che sono usciti, la Juventus ora è pronta. La Juventus io mi aspetto che in questa settimana possa veramente dare un'accelerata molto importante, anche perché non si può più scherzare, stiamo parlando di un campionato che inizia tra 20 giorni e non credo che in occasione di Juventus-Como la formazione di Tiago Motta sarà quella titolare con tutti gli effettivi a disposizione, però alcune situazioni scomode vanno risolte adesso. Per scomode intendo le prime linee e Cobb Mainers e Tudiboh sono assolutamente prime linee. Su Tudiboh ormai c'è bene o male quasi tutto l'accordo, si è dato anche indicazione agli agenti del giocatore di trovare la quadra con il Nizza, quella definitiva che permetterà l'arrivo del difensore in prestito con obbligo di riscatto. Alfredo Pedula, l'altro giorno, diceva una cosa molto interessante, che potrebbe essere addirittura un diritto con cifre inferiore ai 40 e forse anche inferiore ai 35. Ecco, questa sarebbe un'operazione clamorosa perché ti permetterebbe di valutare il giocatore. Nel caso, dopo averlo osservato, dopo aver visto le caratteristiche, quanto è importante, come si è trovato, come si è ambientato, se il giocatore è giusto, potresti poi andarlo a riscattare. Attenzione che c'è una pista parallela a Thiago Jalò perché non è sicuro di rimanere così come Rugani, che tra l'altro oggi compie 30 anni, quindi tanti auguri al nostro Daniele Rugani, però sono entrambi i giocatori che potrebbero uscire. Su Rugani siamo molto più orientati verso l'accessione, sappiamo qual è la situazione, c'erano stati dei pregressi durante il rinnovo, invece su Thiago Jalò, attenzione, potrebbe uscire in prestito. È una cosa che mi stupisce, qualcuno dirà, ma Dio, solo perché l'altro giorno con Nuremberg ha ballato? No, no. E se vi ricordate potete andare a cercare qui sul canale YouTube, c'è la chiacchierata con Giovanni Albanese prima dell'inizio del mercato, e Giovanni stesso ci dice attenzione perché Thiago Jalò è uno dei giocatori che può uscire in prestito perché la Juve ancora non è totalmente convinta delle condizioni del ragazzo. Quindi occhio, occhio, perché Thiago Jalò può diventare a sorpresa un giocatore che se ne va così come Facundo, che in un primo momento si era pensato potesse rimanere alla Juventus, invece molto probabilmente uscirà pure lui, però anche questo ci fa capire quanto la linea difensiva sia un pochettino da sistemare. Niente paura perché a ore, a momenti dovrebbero tornare anche Danilo Bremer e Douglas Lewis, che non c'entra niente con i difensori, però intanto anche la linea difensiva andrà ad arricchirsi di nuovi componenti, e ovviamente anche l'arrivo di Douglas Lewis non è da sottovalutare perché a centrocampo bisogna iniziare a metterci mano con un po' più di convinzione perché abbiamo visto anche l'altro giorno Locatelli inciampare all'interno dei suoi soliti errori. Locatelli deve assolutamente muoversi in questa stagione, gli diamo il beneficio del dubbio della condizione fisica, lo stesso Turam mi è sembrato un po' imballato, le gambe non giravano ancora al meglio per nessuno degli effettivi, se non UEA probabilmente che è sembrato quello un po' più pimpante, quindi attendiamo che la preparazione venga smaltita, poi iniziamo a dare delle valutazioni giuste e per alcuni anche definitive perché arriviamo all'ennesima stagione alla Juventus ed ora di raccogliere quanto seminato. Su Federico Chiesa secondo me si va un po' più avanti, nel senso che diventa una problematica, non volevo utilizzare questo termine però forse lo diventa di quelle che si può anche sciogliere negli ultimi giorni anche con un'occasione in agosto, ma attenzione perché dalla Premier sta continuando il pressing del Tottenham e sembra che si stiano aggiungendo anche altre squadre, per il momento monitoriamola perché poi sappiamo che la Juventus a seconda di quanti esterni andrà a cedere dovrà poi fare degli ingressi sugli esterni. Io sono molto preoccupato lato esterni perché siamo abbastanza sforniti, l'altro giorno un ragazzo mi diceva ma come il gioco di Tiago Motta si basa sugli esterni e noi non ne abbiamo? Sì e no, sicuramente gli esterni sono una parte fondamentale del gioco di Tiago Motta e in questo momento siamo abbastanza indietro, confermo, sì da quel punto di vista abbiamo necessità di inserire qualcosina perché siamo troppo pochi. Se pensiamo anche ai terzini per dire abbiamo Barbieri che sta uscendo, sta andando al Venezia, è una trattativa che avevamo già discusso qualche mese fa, ora dopo la tourne si sta ragionando su questa cosa ma soprattutto oggi la Juventus è focalizzata su il colpo principe che, lo so, ormai vi sarete anche rotti voi di sentirlo ma è Teonco Mainers. La Juventus ora che ha ceduto su lei avrà la possibilità di recapitare ufficialmente un'offerta all'Atalanta che dovrà dire se accettare oppure no questo corteggiamento anche se l'Atalanta sta cercando di prendere dei sostituti al posto di Cobb Mainers e sta cercando di pagargli le cifre che vuole, giustamente non vuole partecipare ad un'asta, un gioco a rialzo da parte degli altri club che sono giustamente osservatori interessati anche alla trattativa Cobb Mainers della serie se so che stai per vendere un giocatore impattante alla Juventus significa che qualche soldino ti sta entrando e allora infatti l'Atalanta in maniera molto sapiente vuole cercare di farla prima questa roba qui vediamo come riuscirà a sostituire preventivamente Cobb Mainers per poi andare a trattare la cessione definitiva ma ribadisco, non permetto di fare fretta, però mancano 18 giorni, 20 giorni all'inizio del campionato e io credo che la Juventus tu di voi Cobb Mainers, almeno loro due, entro l'inizio della stagione entro, Juventus come dovranno essere dei giocatori della Juventus o se non saranno loro i giocatori di riferimento, traduco, salta Todivou, salta Cobb Mainers allora i giocatori che vanno a prendere i posti nella programmazione perché non dobbiamo andare mai niente per scontato, non c'è scritto a nessuna parte che Cobb Mainers sarà un giocatore della Juventus anche se secondo me ci sono grandi possibilità, ampie possibilità di vederlo davvero in bianco e nero quindi queste sono le priorità della Juventus, lo sappiamo ma ora che ci sono state le cessioni possiamo iniziare veramente a parlarne prima era una programmazione della serie, sì, quando li cediamo, poi allora no adesso lo si fa, perché adesso ci sono state le cessioni e ora c'è la possibilità ma soprattutto la Juventus dopo un test che ha fatto male per forza di cose dal punto di vista del morale ma ha fatto poco male dal punto di vista dell'utilità di quello che rappresenta un'amichevole estiva in Germania ora però ci sarà necessità di aumentare la qualità e se Hildiz, Bremer, Danilo, Douglas-Louis, Chiesa, McKennie stanno tornando tutti agli ordini di Tiago Motta stanno arrivando per conoscere il nuovo allenatore beh, sul mercato ci sono ancora dei giocatori che andrebbero presi e anche di corsa ragazzi fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti grazie a tutti grazie a tutti